Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese e Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per lavori fino alle 19, tra Aglio e Pian del Voglio, tra B1 Variante e Aglio, tutto verso nord. Per la mobilità, sempre in A1, rallentamenti verso sud, tra B1 Variante e Badia, in carregiata opposta tra Calenzano e B1 Variante. Ci spostiamo sulla diramazione Lucca-Viareggio, resta tratto chiuso per incendio tra Lucca-Ovest e Massarosa nelle due direzioni. Arriviamo in FIPD per incendio, è chiusa l'entrata di Empoli-Est per chi viaggia verso Livorno, raccomandiamo la massima prudenza alla guida. Sempre in FIPD rallentamenti per traffico verso il capoluogo, tra Scandici e Firenze-Scandici. Moversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze, per ora è tutto un viaggio. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS